C'era una volta Firenze al centro del mondo politico. Erano gli anni del governo Renzi che sceglieva la sua città per incontrare i capi di Stato e una truppa toscana di parlamentari ben nutrita si traduceva in un'attenzione puntuale da parte di Roma alle richieste che arrivavano dal territorio. Anche l'era Gentiloni è proseguita, anche se un po' meno, su questa strada che si è fatta più tortuosa nel Conte 1, anche se il governo giallo-verde non ha registrato grossi scossoni, del resto non erano anni elettorali e la nottata è passata in dolore per riprendersi con il Conte giallo-rosso. Dopo l'interregno del Covid è arrivato Draghi e con lui le cose sono andate piuttosto bene, sia a Tranvia, sia a PNRR, sia allo stadio, tutto lo stadio, ma dopo Draghi il diluvio. Lo stadio perde 55 milioni, quelli venuti meno a Venezia vengono trovati, quelli persi da Firenze no. Ora saltano anche 30 milioni di euro già stanziati sulla Tranvia. Il ministro della protezione civile Musumeci arriva nelle zone alluvionate e punta il dito contro opere non finite e imprenditori non assicurati. Non riguarda Firenze, ma segnaliamo che le poche compensazioni arrivate per il rigassificatore a Piombino sono del governo precedente. Alle molte richieste a quello attuale ancora non c'è risposta. Ora, nel 2024 si vota negli ultimi tre capoluoghi toscani rimasti al centro-sinistra. La vittoria a Firenze in particolare è, sanno benissimo anche i DEM, condizione non sufficiente ma necessaria per tenere la regione nel 2025. È ormai evidente che il governo Meloni abbia come obiettivo quello di fare campagna elettorale privando Firenze di decine di milioni di euro, ha detto senza mezzi termini il sindaco Nardella saputo dello stralcio per il tram. Chiediamo al presidente Gianni se non abbia l'impressione che la Toscana sia particolarmente attenzionata in senso negativo da questo governo e persino lui perde il suo aplomb diplomatico. Non sono fra coloro che pensano a chissà quali strategie o a quello che è la dietrologia dei comportamenti. Io mi auguro proprio di no. Certo, quando si parla di indizi e di prove, l'articolo del Codice Civile, quando definisce la prova, dice che più indizi, quando sono gravi, precisi e concordanti, fanno una prova. Sempre più gli indizi stanno diventando prove.